Raga, io in questo momento mi ritrovo qui Perché sono nel mio periodo del mese E infatti sto letteralmente morendo Questo mese mi sta uccidendo E ho i miei nocciolini di ciliegio O cose così che mi riscaldano la pancia Perché se no veramente non riesco ad alzarmi Quindi sto aspettando che finisca questo mal di pancia qua Nel frattempo mi stavo guardando anche un bellissimo vlog Comunque oggi vi porto con me in un vlog Perché passerò quattro giornate assieme al mio fidanzato Dove festeggeremo Pasqua e andremo alle terme Quindi niente vi porto con me Vediamo un po' di cose insieme Grazie a tutti Allora ragazzi siamo appena arrivati qua in hotel Ed è veramente bellissimo Adesso vi devo fare assolutamente il room tour Perché è fantastico Vi dico solo che è tutto rosa Ok? Tutto rosa Allora questa è la porta d'entrata Poi qua davanti a me abbiamo il bagno Stupendo Cioè ditemi se non da vibes da Vogue Poi qua ci sono io Sleigh Abbastanza conciata ma non contiamo Fatto così E qua c'è la doccia Bellissima Super spaziosa Ok poi andando avanti Qua ci sono tutte le pareti rosa E poi qua abbiamo la cameretta Bellissima E qua abbiamo una scrivania con la postazione coffee Ah guarda questo non l'ho visto Una cantina Super sleigh Troppo far vedere poi questo set super carino Con ogni singola cosa Di cui potrei mai aver bisogno Cioè c'è letteralmente un set di bellezza Burro mani Crema corpo Crema viso Gel intimo Balsamo capelli Shampoo dolce Gel doccia esfoliante Raga sto vivendo il sogno Giuro veramente Adesso quello che faccio è sicuramente cambiare Spregarmi Mettermi l'accappatoio Il costume E andare giù diretta alle tele Perché non vedo l'ora Questo è il mio fit check E il costume è tutto Di Ted Zanis Ciao Update del vlog Noi abbiamo appena passato Praticamente due ore e mezza Alla spa Abbiamo fatto Bagno Con i fanghi Sauna Abbiamo fatto la maschera Ai fanghi Il bagno I fanghi La sauna Siamo stati un po' in un'acqua Così E adesso stiamo andando a fare A pericchio Siamo stati un po' in un'acqua Ehi raga Noi abbiamo fatto un aperitivo Siamo tornati in camera un attimino A rilassarci sul letto E adesso ritorniamo giù Grazie a tutti L'ora della cosa Per il ansante Sempre Musica Ciao raga facciamo una skin care veloce così poi andiamo a dormire inizio veloce proprio i cori questi dei ordineri che mi ha appena schizzato in faccia. Comunque niente adesso andiamo a fare la nanna, ci vediamo domani. Il giorno dopo non ci siamo appena svegliati e si può sentire dalla voce. Adesso stiamo uscendo a fare colazione perché sennò le energie non ci sono. Musica Bene abbiamo fatto colazione adesso ci siamo messi il nostro gym set. Adesso vi faccio vedere tutto il mio gym set di Glow Mode. Praticamente leggings top e ho anche la zacca di Glow Mode e adesso sto mettendo la crema sola ai 50. Così poi andiamo a fare una bella camminata in montagna. Ovviamente vi porto con me. E' passeggiata terminata. Adesso stiamo tornando alle Sermi e ci riscaldiamo un pochettino perché fa abbastanza freddo. Non so se si nota. Musica 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 Grazie a tutti. Ragazzi, update del vlog, non contiamo i miei capelli, però ho appena scoperto di essere mossa, naturale, credo. Comunque abbiamo fatto aperitivo, adesso siamo tornati in camera, per un cambio veloce. Adesso torniamo giù, andiamo... Dove che mi faccio la barba, perché se no la pungo. Esatto, perché se no mi vengono fuori questi, brufolini, ok, vabbè. E andiamo a farci fanghi, la maschera, così così. Dopo essere stati alla spa abbiamo fatto il check out dall'hotel e siamo andati a pranzo in questo ristorante fantastico. Era tutto delizioso, come potete notare anche dalla reazione del mio ragazzo. Abbiamo provato un sacco di piatti diversi, tipici della zona e che dire, wow. E nulla raga, questa è la fine del vlog, spero tanto vi sia piaciuto, un bacio.